Lei nasconde molte cose a sua moglie. Il suo lavoro, la droga, che altro? Che cosa importa? Non possiamo aiutarla se non si apre con noi. Ho fatto lavori pesanti. Se fossi tornata a casa senza potermi muovere, Diana avrebbe capito subito. Per questo prendevo il vicodin, per nascondere il dolore, ma non sono un drogato. Non nasconde altro? Non ho soltanto perso il lavoro. Cioè, da lì è cominciato tutto, ma pensavo che durasse un paio di mesi. Ho prosciugato le carte di credito. Ho preso un doppio mutuo sulla casa e ho venduto tutti i nostri investimenti. Chi immaginava che la recessione durasse tanto? Così è colpa di Obama se lei menti a sua moglie. Senta, sì, è vero, ho sbagliato. Ma ormai è tardi. Dovrebbe voltarsi su un fianco per la puntura. In un rapporto le è mai capitato di fare una cosa di cui poi si è pentito? Può darsi. E come l'ha gestito? Ho detto la verità, alla fine. E poi com'è andata? Non bene. Grazie. 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 Grazie.